Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Telefarise, bene siamo arrivati al punto crucialo dove dovevo andare il prossimo episodio che mi ero perso quanta mila volte, ma non è facile perché oddio se mettesse un punto migliore per capire dove andare sarebbe molto meglio, era fatto proprio brutto, allora vediamo un po'. Dite che non c'è niente, ma qui c'è della roba, scusate, c'è, che non prenderla, oh bene bene bene, oh vedete il bonus, come ho fatto bene a metterlo, ma porca vacca, Vigorio, si, ammasso di opale, ho fatto benissimo, ragazzi venite, livello 19, Jumanj, perfetto vai, Jumanj, ok vai vai vai, perfettico, eh sì sì, decisamente molto molto meglio facendo così, concentrandosi di più, ok, e questa è fatta, oh salve, abbiamo ottenuto di Sion, c'è Kina, c'è Boy, c'è un attacco affilato dopo un nemico sconfitto, dopo avere quell'RB, ok, questi RB hanno avuto un po' i merroni però, eh, allora vediamo un po' se riesco a, eh, riesco a fare un cazzo, beh, questo sì riesco a farlo, così mi dai quel bonus lì, che non è male, eh, penetrazione più 20, eh, mi si interessa parecchio, che metto danni d'aria, eh, va bene, e questo è, va bene, non manca neanche tanto, eh, eh sì, è stato bello, eh, ok, proviamo a scendere, adesso non so di preciso quale è meglio fare, però cerco di farlo tutti e due, se vi permettete, vediamo un po', oh, porca vacca, Ho capito che qua non si può andare Proviamo, eh, perché non ho ben capito, allora, vediamo un po', è circa là, vediamo un po' se è vero, perché se è là e ci arrivo, siamo a cavallo, eh sì, secondo me è così che funziona, vediamo, ok, esatto, però, scusate, Eccoci qua, vai, aprut, Andiamo a vedere, c'è, bottiglie di vita, eh, per qualche vacca, Vabbè, è meglio di un caccio nelle palle, che quello fa solo male, ve lo posso garantire, possiamo andare, Adesso cerchiamo di prendere tutto, eh, senza vedere bottiglie, cioè nel senso, perché mi dispiace, Ok, e questa è andata, rombo, Oh, interessante, qualcosa di nuovo, Sì, infatti in questo livello c'erano diverse cose nuove, E qui, e qui ci sono dei nemici nuovi, E saranno anche potenti, eh, Che livello sono? Beh, 19, Sicuramente non sono da buttare di dono, eh, Vai, su, su, Mamma mia, che, che cosa brutta, Ah, c'è l'età, Ok, ah, non ce l'ho fatto in tempo, Purtroppo, Purtroppo, Vai, ok, Eccolo qua, Beh, direi che mi ha saputo sto bene, Ma cosa dite? Per carità, Non mi ha fatto di cose, eh, Eh, sì, 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 Fungo? Beh, non è che mi dispiace il fungo, Allora, Capiamoci, ah, Perché qui è meglio esplorare bene, Perché, Non so, Effettivamente, Cosa ci possa essere, Con i bonus ce li abbiamo, Li vorrei usare, Che starlo celere, Oh, ma che cosa gradita, Bene, bene, Sono contento che i bonus funzionino, Ed era anche ora, direte, Eh, vabbè, Andiamo da loro, Eh, uh, Venite però, eh, Dice il nave, Ok, Mi piacerebbe concentrarmi su quelli che si concentrano loro, Però, Ok, Perfetto, Ce la fai? Eh, Oh, ma c'è qualcosa, Eh, Cioè, Non è che, Insomma, Nel senso, Però, Sì, Vabbè, Pazienza, Così, Sì, Signorina, Però, Vedo un cazzo, Così, Scusi, Allora, Vediamo un po', Eh, A sto punto andiamo qua, Abbiamo quasi isolito tutto il bonus, E qui c'è altra roba, Ok, Spacchiamo il culo, E vediamo di farcela, C'è altra roba, C'è altra roba, Vai, Vai, Ok, Direi che è andata piuttosto bene, Ok, Perfetto, Direi che li stiamo, Tartassando abbastanza bene, Non mi posso, Certo, La vent'a, E intanto, Per perdere, Combo, Una cosa, Molto, Molto, Poco, Pacevolo, Perfetto, Allora, Ho perso il bonus, Quasi, Però questo lo voglio prendere lo stesso, Ok, Bello grosso, Oh, Vigorio, Che cosa è gradita, Ok, Questo è un elemento molto pesante, Ok, Accidenti, Fatto, Perché è proprio da massa, Massa di danno, Nel senso, Ok, Oh, Porca vacca, Ok, Andata, Perfetto, Ma quanti Vigorio, Eh, C'è qualcosa qua, Vai, Perfetto, Salve, Onice nero, Pietà che incrementa i PV massimi, Per quanto non si possa definire, Un accessorio alla moda, E' apprezzato per il suo contributo in battaglia, Ok, E' un accessorio, Per carità, Può essere buono, Allora, Fatemi vedere, Come poter salire, Che non è, Non mi è bianchiaro, E' fare un giro della madosca, Eh, Ma che palle, Ok, Guardiamo bene, Va, Perché qui c'è tanta gente, Scusate, Visto che sta finendo il bonus, Ne vorrei perfettare un attico, A massa di opa, Oh, Ma quanta roba mi ha dato, Eh, Scusate, Ci ho fatto prendere dall'emozione, C'è tanta roba, C'è tanta roba, Eccoci qua, Ma io mi chiedo, Perché, Ma se, Niente, Mi piace questo, Ci da fare, Ok, Sfondamento atomico, Dai su su, Vai, Ok, Perfetto, Benissimo, Senta che, Ce li hanno le resistenze, Eh, Ok, Fatta, Che ho fatto, Ok, Ok, Qui c'è, Vedo che noto, Vedo che noto, C'è niente più, Mettiamoci neanche, Che suppongo, E tutto il resto, Dicevo, Noto, Che qui c'è tanto da combattere, Perfetto, Benissimo, Ma noi siamo in quattro, Io ne vedo sempre solo due, Che fanno qualcosa, Un po' che ha vacca, Ok, Oh, Che cosa è gradita, Vai, Gelatina all'arancia, Gostiosissima, Porca vacca, Non posso mai prendere un cazzo, Però, Allora, Vediamo un pochino, Oggetti, Gelatina all'arancia, Usiamola, Che devo fare, Purtroppo non posso fare altro, Gelatina all'arancia, No, Questa te la tieni, Usa, Conferma, Ok, Dovrei essere a posto, Perché, Ma è questo, Ok, Che dopo, Questa è l'unica cosa che ci servono, Ne ho poche, Adesso, Le compreremo, Non vi preoccupate, Che è tante ore di comprarle, Ma, Fatti, Sto guardando la minimappa, Non ci sia capito un cazzo, Come il mio solito, Allora, Andiamo di qua, E poi andiamo di qua, E poi andiamo di qua, E poi andiamo di qua, E andiamo di qua, Ok, Benissimo, Vai, Ok, Benissimo, Vai, 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 Perfettico, Eh, Sì, Sì, Questa, Questa, Questa fa, Eh, Non c'è niente a che dire, Soprattutto, Ok, Vai, 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 Perfetto, E' andato più che bene, C'è, Sono combattimenti continui qua, E' una cosa, C'è di allo, No, Che mi dispiace, Per carità, Perfetto, Iniziano ad essere tanti, Vai, 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 Lo volo a fare qualcosa, Ok, Ok, Guardate la quanta roba, Quando si mette anche, Love, Eh, Fa di due di fila, Si può dire, Ah, Non ho fatto partire, Scusate, Ho caricato, Ho caricato, Poi, Casso, Ok, Penso, Che abbiamo preso tutto, Secondo me, Dobbiamo andare in uno, Di quei tre luoghi, Esatto, E qui c'è anche qualcosa, Mamma mia, Sto, Sto dungeon, E' stra pieno, Di roba, Allora, Devo stare attento, Adesso, Più di tutto, Abbattiamo questi, Perché se no, Non c'è tregua, E devo capire, Quale di questi tre, Sarà quello, Che effettivamente, Ci nasconderà qualcosa, Perché, Dato, Quello si parlerà, Insomma, Nel senso, Certo che, Sono molto coriacei, Ovviamente sono costacei, Mamma mia, Che roba, Perfettico, Vai, 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 Che, Ok, Accidenti, Verò peccato, Vai, Vai, Lo, Grande, Così, Perfetto, Vediamo se c'è qualcosa, Che possiamo fare ancora, Allora, Se io cado qua, Non salgo, Invece qua, Sì, Allora, Devo ammazzarvi, Scusate, Se devo risalire, Non voglio avere problemi, Allora, Se uno di questi tre, Non ha, Scale, Dove poter dire una cosa, Che è quella, La strada giusta, Però, È anche vero, Che se le scale, Le posso usare, In due sensi, Quindi potrei scendere, Per guardare, Effettivamente, Quale che devo andare, Vai, 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 Ok, Siamo, Abbiamo un filtro di PC, Oh, Ok, Vai, Eh, Sì, Decisamente meglio, Combattimento adesso, Allora, Allora, L'unico con la scala, È questo, Adesso andiamo qua, Non c'è il problema, Se l'unico con la scala, Allora, Allora, Ok, Uno si va là sopra, E mi sta bene, E non ho letto, Scusatemi, Ma si, Mi sono fatto prendere il panico, Porca vacca, Porca vacca, Porca vacca, Perfetto, Rodan, Distruzione, Vai, 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 Facci sognare, Perfetto, Ciao, Ma questi sono proprio coriace, Abbiamo dovuto usare, Veramente tanto, Ok, Che purtroppo, Mi si erano fulminato, Ah, Mi sono fatto malissimo, Ok, Allora, Dobbiamo salire, Adesso, Eh sì, Non c'è nient'altro da fare, Cioè, Ho preso l'unica strada giusta, Che dovevo prendere, Mi sono contento, Va bene, Adesso usiamo le altre, Dai, Comunque, Sono bastante sicuro, Che una di queste non sia giusta, Che mi porti in un punto, Già, Per me è là, Adesso vediamo, Dipende da tutto, Vedete qua, Secondo me questa è fasulla, E invece no, Forse era l'altra, Boh, Non lo so, Forse è una mia opinione, Ok, Vai vai, Facca tutto, 19 si fa ancora, Dai, Eh, Accidenti, Certo che non dovrebbe, Poter, Reagire, Se io gli faccio, Uno sfondamento atomico, Di quelli proprio pesanti, Eccoci qua, Ok, Peccato per il bonus, Però insomma, Eh, Infatti, E sarebbe stato bello col bonus, Va bene, Andiamo avanti, Ah, Ma lì c'è qualcosa, No, Me la sento di non guardarci, Scusate, Però c'è una caverna, Eh, Infatti, Eh, Che cazzo, Oh, Porca vacca, Ah, Niente, Doviamo forza, 19, Vabbè, Dai, 19 si fa, Mi serve, Fion, C'è, Siamo, Ci danno a mossa, Che cazzo è, Ok, Dai Sion, Fatti onore, Perché insomma, Mi servi, Però, Direi che si è sentito, Voi cosa dite? Ok, Ok, Ottimo, Gata, Ah, Questa è mossa, Mi preoccupo neanche più, Perfetto, Perfetto, Ottimo, Anello a velocità, Anello che commetta la velocità, Riduce il tempo di fuga, Piedi esploratori, Non muovono un passo, Prima di aver indossato, Aumenta la velocità, In che senso? Oggetti, Ripaggiamento, Movimento, Non capisco cosa intenda, Adesso lo proviamo, Vediamo, Dai, Sì, Ha parlato lui, L'ho dato lui, Insomma, Dai, Alla fine, Ok, Andiamo a vedere, Di fare anche altro, Sono contento, Dai, Tanto che ho preso, Non è stata buona, Adesso il bolso, Non ce l'ho più, Però, Insomma, Ok, E questo è uno, Quindi dobbiamo risalire, Per andare di là, Va bene, Tutto chiaro, Stranamente, Insomma, Direte, È vero, È così, È così, Allora, Abbiamo fatto quella vicina, Adesso ti facciamo quella lontana, Così dobbiamo fare tutto quanto, Bene, Dai, Sono contento, Quella vicina, Quella lontana, Abbiamo fatto questa, Ok, Quindi dobbiamo andare qua, In teoria, Sì, È qua, È qua, Però, Non mi ricordo, Ah, Questo qua, Ok, Non c'era tanto, Lo so, Oh, Ma c'è tanto, Invece, Aspettate un attimo, Va che è meglio, Andiamo qua, Perfetto, Gelatina, Deve essere gustosissima, Vediamo un po', Cosa c'è di buono, Teoria è niente, Però, Ci guardo lo stesso, E effettivamente c'era qualcosa, E anche tanto, Peccato per il bonus, Opale, Vabbè dai, Opale, Ok, Ma questo era immenso, È un pilone esagerato, Vabbè, Perfetto, Dai, 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 Perfetto, Vai, Oh, Mamma mia, Peccato per il bonus, Che non ce l'abbiamo, Oh, Ma c'è qualcos'altro qua, Giubba, Di carpace Z1, Giubba ricavata da gusci di Zegul, Ispirata, Ispira sicurezza, Ducendo a ritirarsi, All'interno di qua, No, Questo qui l'avevamo già visto, Uno similo, Questo è Z1, Però, Non lui, Non lei, Ecco, Z1, Per me ci va lui, Ok, Oh, Ma che cosa gustosa, Ok, Si è arrivato, Livello 14, Sono tanti, Vai, Certo che li avevano presi parecchi, Perfetto, Perfetto, Sabo a che sfondamento atomico, Porca vacca, Sì sì, Yes my baby, Eh, Uno smash l'ha dato, Eh, Che dire, Abbiamo fatto una marea di punti, E sono veramente felice di questo, Ok, Possiamo salire, Adesso ci salutiamo, Così è meglio, Quanto queste le abbiamo fatti, Questi siamo andati, Possiamo andare tranquillamente qua, E poi tranquillamente qua, Abbiamo finito il tutto, Bene ragazzi, Di chi ci possiamo salutare, Per questo video è tutto, E vi vedete come al solito, Ci piace la serie di Fammi Un Punto Sapere, Cosa ne pensate, E per il momento, La vita è assoluta, Siva, Ciao, Ciao,